Capitolo 13 Classificazione e riproduzione dei viventi La classificazione Generalità Classificare Classificare è un modo per mettere in ordine fra gli infiniti oggetti che ci circondano Perciò se io devo mettere in ordine gli oggetti di cui siamo circondati La prima cosa è classificarli, possiamo classificare in oggetti da portata, oggetti da soprammobili, oggetti che possono stare in un salotto Abiti, in ogni caso tutto questo può essere classificato Se noi non mettessimo ordine la classificazione di tutto ciò che ci mettiamo addosso Saremmo certo costretti ogni mattina ad andare a cercare per mezza casa quello che ci serve Invece se abbiamo un certo ordine, abbiamo messo da una parte le magliette intime Da una parte abbiamo messo le camicie, da una parte le magliette, da una parte i pantaloni Da una parte mutante e calzini Sapremmo certamente dove andarli a cercare la mattina Questo potrebbe essere un mezzo per classificare gli oggetti che ci sono dentro casa Un'altra cosa che potremmo prendere come esempio di classificazione sono i veicoli Che sono dei mezzi di trasporto che necessitano almeno di un conducente Perciò trasportano persone Come possiamo andare a classificare questi veicoli? Posso classificarli come veicoli che trasportano poche o molte persone Tuttavia ci accorgiamo subito che si tratta di un criterio poco scientifico Poche porzoni e molte persone, sappiamo già dall'inizio dell'anno Che non corrispondono assolutamente a nulla Che cosa significa poche persone? Una, due, dieci, cento Non si sa e diventa sempre dal punto di vista che io sto considerando Pertanto è più serio classificarli in base al numero delle ruote Il numero delle ruote è già qualcosa che io posso contare E dire se una cosa ha più di due ruote, ha quattro ruote, ha otto ruote Ha più di otto ruote, sarebbe già un buon sistema di classificazione Pertanto quando io vado a classificare Devo cercare di stabilire dei criteri di classificazione Nel punto di vista scientifico questi criteri non possono essere soggettivi Ma devono essere oggettivi Quindi un criterio di classificazione di una certa cosa Deve essere un criterio possibilmente oggettivo Esempio il numero di ruote Quindi se io posso dire che trasportano poche persone e molte persone Posso dire in prima approssimazione che mi sto riferendo a un camion Un furgone, un automobilio, un motorino con poche persone Molte persone, autobus, tram e treno Ma questo potrebbe essere già una situazione oggettiva Uno che è abituato a girare con quattro Ad avere un mezzo di trasporto che trasporta quattro persone E già sta nel posto di alta porta otto Come può verificarsi per un furgone potrebbe essere già una cosa eccessiva Dal punto se io vado sulle ruote Posso vedere veicoli a due ruote, bicicletta, motorino Quattro ruote automobili a furgone Più di quattro ruote, autobus, camion, tram e treno Ho fatto una classificazione un po' più oggettiva della precedente Tuttavia mettere insieme camion, autobus, tram e treno Mi rendo conto che potrebbe non essere un'ottima classificazione Perché? Perché l'utilità delle classificazioni Deve basarsi su criteri Sì oggettivi condivisi da tutta qualità Ma spesso e volentieri Un solo criterio non basta Se lo scopo di che mi devo purificere È quello di classificare i veicoli Una sola classificazione può non essere adatta Posso fare un altro tipo di classificazione Anziché con le ruote Posso fare con il numero di persone che trasportano Quindi posso dire che possono trasportare più di 100 persone Possono trasportare da 90 a 100 persone Fino a 9 persone E massimo 2 persone In questo modo ho già una classificazione più precisa Rispetto alla precedente Ma anche qui posso vedere come questa classificazione potrebbe non bastare Perché potrebbe non bastare? Perché è un solo criterio di classificazione Non ho per esempio classificato Fra veicoli che fanno tanta stramme Fanno più di 20 km E veicoli che fanno più di 100 km Difficilmente un treno potrà fare meno di 20 km Invece è facile Con tramme Possa fare 20 km Quindi bisogna articolarsi con le classificazioni Cioè la mia classificazione non può essere su un solo livello Ma deve essere una classificazione gerarchica Cioè abbiamo la classificazione gerarchica che si basa Partendo dalle caratteristiche più generali E poi si va verso caratteristiche più specifiche Ad esempio posso arrivare che la bicicletta è un veicolo a due ruote che è privo di motore Mentre la bicicletta è sempre un veicolo a due ruote che ha un motore Quindi partendo da veicoli a due ruote posso ulteriormente classificarli In base ad altre caratteristiche più particolari Quindi partiamo da un criterio generale Scendiamo fino a caratteri sempre più particolari Fino ad avere un solo tipo di classificazione Quindi i caratteri generali sono quelli di somiglianza Veicoli, tutti hanno un conducente e trasportano persone O trasportano merci Caratteri distintivi ha quattro ruote E trasporta quattro persone Quindi è un'autovettura utilitaria in questo caso Questa è una classificazione gerarchica Prima abbiamo messo il numero più in alto abbiamo classificazione Poi abbiamo messo il numero delle ruote Due ruote, quattro ruote, più di quattro ruote Tra le due ruote possiamo mettere a un motore e non a un motore Abbiamo la motocicletta e la bicicletta Può viaggiare su ruotaria, viaggia su strada Tra viaggio su strada potete scegliere trasporta merci e trasporta persone In questo caso l'autobus trasporta persone e il camion trasporta merci Viaggia su ruotaria, fa distanze più fino a 20 km ad esempio Ed è un tram leggero come può essere nel caso di sinistra O fa distanze più grandi di 20 km Può essere il caso di testa in cui è rappresentato un treno